eccolo veri yes primo cristallo odierno scaricato adesso ci prendiamo secondo eccolo doveri cristallino adesso molto velocemente finiamo il livello yes ah qua si può andare sotto terra mica dall'altra parte fan culo salta fuori che due coglioni no tanto la posso ammazzare ah ah testa di cazzo di una nappe di mierda vai non prendiamo la zemma della copa che non si sa come se deve tornare indietro prendere tutte le altre cazzo de car de cas aiuto ma che aiuto tanto fai così l'ammazzi eh scusate salve boscaioli quanta paura che fate fate proprio una paura ma di quelle potenti fan culo a lei permesso si va avanti ma mica ce la faccio perché ne mancano 6 di casse vabbè fan culo a lei signore si va avanti fortunatamente abbiamo però un nuovo cristallo e mo facciamo nuovi livelli odierni aiuto aiuto crush non c'è tempo da perdere cortex ha quasi terminato la sua nuova stazione spaziale e dice cose molto preoccupanti fai attenzione aiuto oi cosa cocco me lo dica adesso e vai nuovo episodio de minga nuovo episodio odiernabile oserei dire e spacchiamo tutte le casse eccalala pinguini maledetti del madagascar almeno erano del madagascar i pinguini e va fan culo sai che io mica me le ricordo ste figa di di oke no mori mori e e mi ammazza fan culo denete foke eh eh ma e che minghia oh che non ce la faccio andarla su bra mamma mia che dopo volevo fare un leo leo e non ce la faccio e ci tocca andare di qua ci tocca fare quel farema quel passaggio qua molto brutto molto brutto perché una volta si faceva alla prima botta fare tutte queste cose molto belle le mele ti cazzi le lascio lì eccala nuove le foke maledette si saltano fuori adesso le bestemmie via subito alla seconda parte che poi complessiva di tre parti quindi adesso siamo tipo a metà e poi ce n'è un'altra mica potevo rompere qua ah questo tempo uh queste cadono no perché è caduta perché ero troppo vicino very well dio fuga foca di mierda uno due tre quattro ne vado a prendere questa voilà non si sa mai le e cado pure nel bonus che ovviamente vi farò vedere giusto una volta perché continuerò a morire in una maniera antropomorfa userei dire e quindi vi chiccherò tutto molto tranquillamente ah fanculo datemi le mele le ok no ecco stavo mi stavo ad ammazzare con con le casse dietro fanculo quante cacchio le mele le mele prendo tutte eh non preoccupatevi le prendo tutte quante mele ho fatto una scorpacciata incredibile olle eh 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 ti sarebbe piaciuto farmi fare la brutta figura ah dove vado adesso accucciamoci prese tutte voilà e non ho anche togliato dei pezzi perché le abbiamo fatte tutte molto bene molto bene fanculo la vedo nello specchio specchiato con il ghiaccio ghiacciato ma e che mingia d'escor porco corno che se non mi spaccavo la stalla titta con la maschera la anche prima l'avevo già fatto quella situazione lì perché ovviamente avendo la vasca la masca la masca la maschera very well avevo fa il giro grazie mille imbecille allora avanti aio che dolore dovete quella lì non mi ricordo se è quella della morte nel senso che non bisognavamo dire per arrivare a sbloccare quella lì o se è una cosa bonus io ho molta paura adesso ok sembra tutto tranquillo quindi posso fare anche così la miracolata atomica mori male quindi c'era soltanto una cassa tnt perché poi eh perché volevate fare i furbetti datemi tutte le mille quante mille le vediamo anche queste e voi scoppia questo fancu che number mamma mia via messo nel ghiaccio sconsalto dio no come ho fatto ad ammasciarlo no come ho fatto mica se cadevo qua mi dava no mi dava la la cosa rossa no ma mi sta venendo lo dubbio un ingredibile dubbio ah era ok perfetto perché non l'ha fatta scoppiare eh giustamente però ha fatto scoppiare quella lì to le mettiamo no che brutto quel pezzo qua grazie mille per l'installazione di black ops 3 che ho provato a giocare un paio di settimane fa ed è stata e l'avevo vista io eh se te la si incula quella cassa la eh quella cassa quella vita non me ne fotte e si va giù yuppidù quasi mi sbaglio non si può tornare indietro perfetto lei facci il giro grazie mille molto gently no perché lo porco perché lo porco e anche lo spino sai che te dico t'ammazzo così guarda con molto gusto uh no minchia che paura quel porco e anche spino aspetti ah aspetti ehi fanculo te prendo così te prendo uh fuga spacco tutto ne mancano 25 porco spino mar madonna no 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 che minga che minga dè paura che ho preso ci affacciamo ad arrivare a prenderle tutte eh ok forse qua mi sa che non ce n'era o bisognava tornare indietro mh ma c'ho il dubbio no non è vero perché è già finito il livello che cacchio che non c'ho visto niente non è per 15 cash tutto sommato si può fare e si va avanti finalmente leh giusta giusta in tasca ci sta si va avanti con ruinesion ah e vabbè però iniziare subito così sai non è che sia proprio una bella cosa sputa ancora fuoco grazie mille ok foto fatta mamma mia che me stavo perfetto che grande inizio di livello questo mamma mia proprio i grandi applausi ovviamente poi quando rifaccio livello che non parlo per fare tutto livello bello veloce ah era una nitro ok non era una cosa che fanculo prendile non è una TNT ciao e perché mi stanno a guardare quei cosi qua moremmo tutto tranquillo quello passa coglione quanto piove e quanto cazzo ha qualcosa lì da sprigionare ok si sta a scimmia toh sembra è stata sul cazzo la scimmia che è un vedico guarda un vedico e ho preso una voodoo bega buttala via io molto bene lo fa ah avevo la maschera scimmia di merda via il culo che dolore che cacchio cazzo piove ci sta il fuoco con il gas metano che un vedico perché un vedico no 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 non posso dirvelo questo cacchio da rovina da merda vi dico subito ragazzi mi dispiace ma questo sarà l'ultimo episodio odierno perché sia quello di ieri che quello di oggi li sto registrando e ci sto e ci sto fanculo e ci sto mettendo mezz'ora e quindi diciamo che non ho proprio tutto questo tempo dannata cassa maledetta l'urida allora dobbiamo romperla poi saltarci su sal sal perfetto cadendo molto lontano rispetto oh eh rispetto le ok spacco questo le spacco tutte e due ho il mio bodere naticale le robe tranquille però eh perché io non ho mica le eh deve fare queste cose strane eh e mo faccio così via e torno indietro faccio tranqui e non scoppiano mica eh un scoppiano e qua invece devo fare così salto semmai che male di chiappa e mi son fermato ma fanculo quattro casse ed è merda che si so buggate e non mi si rompevano va benissimo anche perché ho fatto il doppio salto cinquantamila volte fermati lì che su salto tutto si fermi non mi faccio fare tutto questo cacchio di cosa che dato come cacchio ho fatto ma ma la scimmia non ammazzarsi con ah minghia mi ho fatto la scimmia non ammazzarsi con il fuoco c'è una cosa incredibile quando penso che mi ha saltato con la more ma schifosa no no perché ti ammazzo tranqui invece mori con la cassa sti cazzi però ti ammazzato adesso e ci godo vedete io non prenderò la come gira prenderò la zemma giusto per colpa di quelle curse che si sono bagate nel bonus bene quanto si scivola quanto aiuto non è qualcosa buono quanti topi ok e ovviamente non abbiamo preso la ca aio che dolore me l'ero dimenticato l'avevo anche visto alla fine del bonus non abbiamo preso la mitica la mitica gemma per il semplice fatto di quelle casse di merda che si sono bagate niente ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto ho dovuto allungare di un episodio questa serie con crash bandico 2 perché sta durando un'eternità la registrazione dei video ci vediamo domani con un nuovo episodio e cristal l'ho l'ho preso